Quali iniziative attua la Regione Basilicata verso la sostenibilità energetica? La Regione Basilicata ha costruito il suo piano energetico che poi insomma un po' lo statuto, la carta regolatrice dello sviluppo in questo settore, anteponendo la microdiffusione energetica come punto essenziale e inamovibile del suo stesso essere. Ciò significa che noi diamo sfogo a operazioni anche imprenditoriali, oltre che pubbliche, confinate in un perimetro entro il quale le soglie sono particolarmente contenute. Questo è un indirizzo che la Regione dà innanzitutto per salvaguardare il territorio e armonizzarlo con un impatto inevitabile che il ricorso alle fondi alternative mette in conto. Lo facciamo spingendo molto perché riteniamo che su questo versante, oltre a un utilizzo virtuoso delle risorse europee, noi possiamo costruire e irrobustire il PIL, il valore aggiunto del PIL lucano e lo facciamo anche in considerazione del fatto che la Basilicata pensa al dopo petrolio e accompagna anche l'azione di estrazione del gas come del petrolio con una parallelazione di irrobustimento di produzione di energia elettrica e quindi pulita da fondi alternative. C'è un emendamento approvato l'altra notte in finanziaria che prevede una sorta di moratoria nei confronti dell'attività di ricerca, di prospezione e anche di estrazione in tutte le aree della Regione Basilicata ad eccezione di quelle che sono state oggetto di intesa nel 99-98-99. Significa che noi che abbiamo ricevuto come Regione e su questo chiudo, questo primo intervento, diecine e diecine di richieste da parte dei convenienti petroliferi di trivellare anche solo per ricercare il petrolio e il gas il nostro territorio, in ogni dove noi diciamo sostanzialmente che per quanto riguarda la Regione Basilicata questo non è possibile. Abbiamo in atto sul petrolio in Valdagri, Convigiano, Villadagri e Corletto, Total ed Eni, alcune attività da intese pregresse, quelle vanno avanti, ovviamente vanno avanti se la tutela della salute, la tutela dell'ambiente, la formazione, le ricadute occupazionali e infrastrutturali sono adeguate per la nostra Regione. Dunque una Regione che si colloca su una spinta particolarmente forte relativa alle fonti energetiche rinnovabili. Quanto è importante il cinema per il turismo? Noi abbiamo recuperato il 15% del valore aggiunto del PIL in Basilicata attraverso Basilicata cost to cost. Ciò significa che con la grande intuizione della Regione, del Ministero, di Rocco Papaleo che è un nostro carissimo amico, oltre che con Paesane e con Regionale abbiamo dato alla Basilicata un valore aggiunto significativo. La verità è che la nostra Regione si presta per i luoghi, per la storia, per la cultura, la tradizione e anche per la capacità di accoglienza. E allora va utilizzato questo valore aggiunto, lo facciamo mettendo risorse importanti che vanno dentro e oltre la Film Commission di cui noi ci dotiamo e lo facciamo sostanzialmente perché crediamo che il turismo, a differenza dell'animazione culturale, si fonda e si costruisce richiamando in un'epoca globale sostanzialmente soggetti, pezzi della società mondiale qui in Basilicata. Per farlo abbiamo bisogno di farla conoscere e tutto ciò che sta tra cinema, piattaforme digitali, comunicazione web, via etere sostanzialmente va utilizzato perché è un mezzo attraverso cui trasferiamo le bellezze, le qualità di questa nostra Regione. Puntiamo molto su questo e riteniamo che sia indispensabile. Le manifestazioni come Maratea Film Festival si iscrivono sostanzialmente in questo percorso. Grazie.